Una ricerca scientifica e antropologica per valutare l'immagine della donna nella comunicazione locale insieme alla pubblicazione delle tesi di laurea sulla parità e sulla violenza di genere che saranno discusse nel 2016 dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata. Sono i contenuti di un progetto su comunicazione locale e rappresentazione di genere illustrato in una conferenza stampa dalle presidenti del Core con Basilicata e della Commissione regionale Pari Opportunità, Giuditta Lamorte e Angela Blasi. In occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Commissione Pari Opportunità e il Corecom intendono analizzare i contenuti dell'informazione locale e il modo in cui vengono rappresentati il ruolo e la figura delle donne. L'affermazione delle politiche di genere dà la possibilità alle donne di abbattere le barriere sociali che ancora le vedono emarginate, hanno detto Blasi e Lamorte, convinte che fra i due organismi può nascere un'utile sinergia per combattere la violenza e per educare la valorizzazione delle differenze considerandole patrimoni e occasioni di arricchimento.